Manca pochissimo al Natale, voglio rivolgervi un ultimo appello, non andate a comprare un cucciolo perché l'amore non si compra, ma andate nel canilo, nel gattile più vicino alla vostra città e lì troverete il compagno della vostra vita. E vi dico di più, non guardate solo quello più bello, più giovane che vi viene incontro, ma cercate gabbia dopo gabbia quello che ha gli occhietti più tristi, quello che sta in un angolo, quello che da tanto tempo è dietro le sbarre ed è rassegnato, pensa che nessuno lo porterà mai a casa. Bene, fateli questo regalo, dategli una nuova opportunità, vi ricompenserà con l'amore più grande che ci sia.